Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti a questa lettura per il segno della bilancia valida per il mese di febbraio. È una lettura generica, quindi se non risuona con tutti, guardate le letture del vostro ascendente o della vostra luna. Se volete invece conoscere i prezzi delle sessioni private, come lettura di tarocchi, analisi karmica, life coaching, oppure volete conoscere i programmi dei videocorsi disponibili, inviate una mail a voci dagliangeli chiocciolagmail.com e la mia assistente Angela vi risponderà e vi darà tutte le informazioni che vi servono. Iniziamo con l'energia generale per la bilancia, che è un 3 di spade rovesciato. Qualche cosa è successo, uno di voi due non se l'è passata molto bene e adesso si lecca le ferite. Però per fortuna la fase dura diciamo che è finita. Sembra perlomeno che il peggio sia passato e che anzi il mese di febbraio sia un mese di ripresa. Anche se ha lasciato dei segni, questo è chiaro, perché il 3 di spade rovesciato non è una cosa che passa indenne, non è una cosa che non lascia segni, ma va bene, ma va bene. È andata come doveva andare, qualunque esperienza sia arrivata ha lasciato i suoi insegnamenti, perlomeno spero che sia così e comunque chi non ha ancora imparato è colui che se la sta passando peggio. Quindi se siete voi quelli che se la stanno passando emotivamente peggio, siete voi che dovete ancora imparare una lezione e quindi state molto attenti ai segnali che ricevete dall'universo, perché quella lezione in realtà è lì davanti ai vostri occhi e se vi rifiutate di impararla c'è poco veramente da fare. Se invece è il vostro partner quello che se la sta passando peggio, buon per voi, perché vedo che in una delle due colonne le cose vanno meglio che nell'altra. Dunque, vedremo adesso quale delle due colonne è la vostra, in una ritroverete voi stessi, in una il vostro partner, la vostra colonna o quella del vostro partner le identificherete man mano che leggerò, perché vi ritroverete in una delle due. Chi si trova da questo lato, in questo momento si sente molto forte, si sente al pieno delle sue capacità, si sente come il mago, quindi come qualcuno che ha a disposizione tutti gli strumenti per poter gestire la propria vita come vuole e come desidera. Questa persona pensa di poter costruire il suo futuro, pensa anche di sapere quale futuro desidera e infatti cosa prove un 10 di coppe, quindi diciamo che a livello emotivo, a livello sentimentale i sentimenti sono forti, c'è una consapevolezza, c'è una pienezza emotiva, c'è il desiderio di stare insieme, c'è la convinzione di volere costruire magari insieme una famiglia o comunque qualcosa di più e questa persona si sente anche abbastanza sicura di se stessa nel poterlo fare. Cosa desidera però è il carro rovesciato, quindi qui c'è o di mezzo qualche piccola strategia oppure stiamo parlando di fare un po' le vittime, quindi magari questa persona in questo momento può permettersi di fare la vittima, può permettersi di farsi tra virgolette consolare, può permettersi di mettere dei blocchi che a volte sono dei blocchi strumentali, cioè servono per far smuovere l'altro, fanno parte di una tattica, di una strategia, fanno un po' parte di un piano. Non stiamo qui a dire se positivo o negativo perché non ha molto senso, perché tutto può essere utilizzato a fin di bene o a fin di male, ma comunque il sentirsi bloccati, il desiderio di fermarsi e fare un po' la parte lesa e quindi farsi consolare e sentire riconosciute, sentire riconosciuti i propri meriti in questo caso è abbastanza chiaro. Cosa questa persona fa e la regina di bastoni cosa nasconde l'otto di coppe? E questa persona si sente davvero sicura di sé, si sente davvero sicura di sé. La regina di bastoni è qualcuno che ha il pieno potere delle proprie emozioni, che ha sotto controllo l'emotività, che è consapevole del proprio aspetto fisico, consapevole di essere attraente, di essere al centro dell'attenzione, solo che cosa nasconde è un otto di coppe, cioè sta tramando qualcosa, ci vedo qualche forma di manipolazione, dalla più leve alla più grave, non importa, ognuno di voi sa di che cosa si tratta, però qui si tratta comunque di mantenere in piedi un'immagine di se stessi da mostrare, ma dentro in realtà c'è qualcosa che si sta complottando che riguarda invece un allontanamento, un andar via da qualche altra parte, un allontanarsi dalla sofferenza. Magari semplicemente questa persona piuttosto che complottare sta cercando di allontanarsi da una fase di sofferenza e chiedere anche consigli ad amici o amiche su cosa fare, su quale strategia prendere, ma non è solo questo, anche se per la maggior parte di voi potrebbe esserlo, in realtà per qualcuno di voi c'è una sorta di manipolazione che riguarda un allontanarsi, che so, del tipo mi allontano al momento giusto così l'altro capisce che deve avvicinarsi, ecco un po' questo, oppure prendo le distanze mentalmente, energeticamente, prendo le distanze e faccio vedere che mi allontano così l'altro reagisce e mi viene dietro, qualcosa del genere potrebbe essere. Vediamo invece l'altra persona, l'altra persona non sta altrettanto bene, non si sente altrettanto sicura di sé, perché si sente come un asso di coppe rovesciato e ciò che prova per il partner è un otto di bastoni rovesciato, quindi è una persona che in realtà non si sente nemmeno, non si sente più nemmeno tanto sicura dei propri sentimenti, sta mettendo in dubbio tutto, sta mettendo in dubbio determinate cose, sta mettendo anche in dubbio il fatto di andare via, di allontanarsi, di prendere strade diverse e ciò che prova è un otto di bastoni rovesciato, quindi è veramente un blocco, ha anche un'incapacità di parlare, di esprimersi chiaramente e dire le cose come stanno e come si pensano. Questa persona ha bisogno di riflettere prima di agire. Cosa desidera è un otto di spade rovesciato? Desidera liberarsi dai propri pensieri, dalle proprie paure. Questa persona ha paura o ha la sensazione di essere stata presa in giro. Qui si tratta, ragazzi, parliamoci chiaro. Qui si tratta o di qualcuno che ha paura o ha il dubbio di essere stato tradito, oppure si tratta di qualcuno che ha scoperto qualcosa che non va e vorrebbe trovare le prove per poterlo dimostrare, oppure si tratta di qualcuno che... Si tratta di qualcuno che riconosce delle tendenze manipolatrici nell'altro e vorrebbe avere i mezzi per smascherarle. In alternativa, cos'altro potrebbe essere? Qualcuno che vuole dimostrare di avere ragione su qualcosa, ma per adesso non ci sta riuscendo. Cosa questa persona fa all'otto di denari e cosa non dice il cinque di denari rovesciato? Beh, non dice che vorrebbe andare via, non dice che vorrebbe allontanarsi, non dice che ha paura. Ha paura. Questa persona ha paura di qualcosa. In parte di cose reali, per qualcuno di voi questa persona ha paura di cose reali, per qualcun altro di voi invece questa persona vede fantasmi, ha paura di cose che realmente non esistono ed è anche un po' paranoica. Ma per qualcuno di voi, ragazzi, qui c'è qualcosa di reale dietro. Quindi ecco, se volete sapere esattamente quale delle due è la vostra situazione, magari vi consiglio di chiedere una lettura privata, perché in una lettura generica non posso dirvi esattamente di che si tratta. Però comunque questa persona sta facendo, sta cercando di fare il suo lavoro, sta cercando di andare avanti, sta cercando di fare la sua parte. Cosa dicono gli angeli? Allora, gli angeli in realtà qui parlano piuttosto di questioni legate all'economia e alla professionalità, piuttosto che parlare della relazione. E dicono che dovete stare un po' più attenti con il denaro, dovete stare più attenti nella gestione del denaro. Questo è un mese nel quale potreste prendere delle buone decisioni per quanto riguardano il vostro lavoro. E se si tratta di un momento della vostra vita in cui qualcuno meno fortunato ha bisogno del vostro aiuto, fatelo, perché comunque è un buon momento per donare, e donare significa senza comunque ricevere nulla in cambio, ma state attenti in generale a come gestite il vostro denaro, perché potreste avere dei comportamenti eccessivi magari spendendo in cose inutili. Per il resto, ragazzi, per avere una lettura privata, inviate una mail a voci dagliangeli chiocciolagmail.com altrimenti ci vediamo alla prossima.